5, 4, 3, 2, 1 Ok ragazzi ecco il buco Magicamente tutto si trasforma Eccoci qui praticamente entriamo in un'altra dimensione raga Vediamo un po' Allora probabilmente voi avrete già visto l'evento Per me praticamente è la prima volta quindi Ok Spettacolare raga Mamma mia ragazzuoli Bellissimo Già mi piace un botto io ve lo dico Ecco qui perché c'è la novità della pesca appunto Ok Le nuove sloop ragazzuoli Le nuove sloop E un po' di cose sono cambiate raga Sono veramente veramente curioso di andare a giocare Intanto questo trailer è veramente veramente bello Guardate qui raga che grafica Veramente ci sta un botto Clacsono del bus della battaglia Per me è veramente tutto nuovo raga Rieccoci nel bus Qui facciamo festa raga Mamma mia Veramente veramente spettacolare Peccato che Sto vivendo in ritardo tutto questo Eccoci qua praticamente raga Ok adesso posso usare il personaggio Perfetto Ok raga Ok nella mappa da praticamente tutti i punti interrogativi ragazzuoli Vabbè atterriamo qui per esempio Abbiamo la skin standard Quella praticamente dell'inizio del gioco Però non so raga se me le fa perdere le skin Questo non lo so Vediamo Allora vabbè atterriamo Ok Ma raga Ma le armi comunque sono diversissime Vampa fucile Ma cos'è raga La sensibilità è come quella di prima raga Non so perché O mi sto facendo condizionare Vediamo un po' Aspettate La vediamo Sensibilità Sì vabbè Tutto Tutto quella prima Ma niente Allora mi sto facendo condizionare Comunque raga La grafica è veramente diversa Anche abbiato la texture Vampa fucile Anche alcune armi sono nuove comunque Mitraglietta Sì raga Ma comunque Sono molto molto diverse le texture Ecco ad esempio Rompiamo questi libri Va bene No raga C'è assurdo Gioco per la prima volta Il secondo capitolo di Fortnite Raga ma Si capisce raga Che la Epic Games Ha veramente voluto Rivoluzionare L'esperienza videoludica Di videogioca Tutto raga Per la prima volta Guardate qui il boost Raga Spettacolare Raga C'è praticamente Si può entrare dentro al boost What? No assurdo Raga Lo snag Questa cos'è raga Bazooka Band Non ci credo C'è praticamente il bazooka Che ti spara le band Boia Lo voglio Questo lo voglio provare Raga Vediamo No vabbè Raga C'è il bazooka Che ti spara le band Spettacolare Assurdo Raga Ah però occupa due posti Nello slot Proviamo che so Ad editare Ad esempio Ah ok Perfetto Medaglia Medaglia Super 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 Ho sempre lo stesso Comunque Dovete considerare Che non gioco a Fortnite Praticamente da 10 giorni Perché sono stato in ospedale Raga 10 giorni Quindi La prima volta Che ho riavviato Fortnite E mi ritrovo qui a registrare Quindi raga C'è da considerare Che non gioco a Fortnite Da 10 giorni Però spero Veramente di riabituarmi il prima possibile Infatti giocare la sensibilità Nonostante siano quella prima Mi sembra un po' tutto diverso Mi devo riabituare Mori Ok raga la mia prima kill Su Fortnite 2 effettuata Perfetto raga Considerando che non gioco da un botto di tempo Mi sembra difficilissimo pure correre Però prima kill effettuata Perfetto raga Allora no veramente raga Devo dire che mi piace molto Come prime impressioni Come vi ho detto Ok sento altri passi raga Mori Ok Perfetto raga No vabbè ma stiamo facendo il devasto raga Non capisco come mai Ecco il pompa del nonno raga Il pompa del nonno blu Mamma mia che emozione raga Eh no vabbè Allora raga Già da quanto punto così Mi sembra veramente diverso Raga assurdo La grafica l'hanno cambiato un botto Comunque raga No questo cos'è? Canna da pesca Ok raga questa la voglio provare subito La canna da pesca Allora prendi Ok qua ci sono altre canna da pesca Ok qua ci sono altre canne da pesca E se non erro ragazzuoli Si può anche praticamente guidare Diciamo questa specie di barca Se non erro Vediamo Sì guida C'è raga assurdo Assurdo raga C'è Veramente raga Qualcosa di epico È la prima volta Lo sto provando in live con voi Qualcosa di epico Raga si possono guidare Queste barche Assurdo Due Uno Ok raga Eccoci qui in partita A quanto vedo La mappa si deve sbloccare A poco a poco Raga Infatti i nomi delle zone Non li dice Va bene così Allora Va bene Adesso raga Siamo sul bus Non saprei dove scendere Raga Dato che i nomi delle mappe Non me li dice Vabbè Buttiamoci a casa E dove scendiamo Scendiamo Allora Vediamo questa seconda partita Come andrà Non so cosa hanno cambiato A livello di matchmaking Raga Se non sbaglio Ho aggiunto il botto Questo se non sbaglio Penso sia così Ho aggiunto il botto Non so se a livello di matchmaking Ti fa incontrare Solamente i players Del tuo livello E qui dentro Muori zio Bam Eccoci qui raga Subito altra kill Vi invito veramente A spolliciare come pazzi Raga Per questo ritorno Nel secondo capitolo Di fortnite Ok raga Ok Eccoti qua zio Mamma mia raga Non ti ha fatto 110 in body Non l'ho visto raga Di vita totale Perfetto Potenziare Ma what Si possono potenziare le armi Raga Guardate No vabbè Assurdo Ok Ok Cucine la pompa Io riprovo a pescare Ve lo dico Vediamo cosa ne esce fuori Ho pescato un pesce raga Flopper Pesce E adesso che faccio? Ah Dalla salute il pesce Ok Tu peschi il pesce E' come se Se ti fai uno shieldino Ad esempio Ok raga Uno qua Addio Bella per te fra Perfetto raga Bene raga Il video può finire qua Spero che vi sia piaciuto Che dire Impressioni di questo nuovo fortnite A me piace Veramente tanto raga Texture diverse Armi nuove Parti da una volta diverse Più o meno il gioco Organizzato anche in maniera diversa Però a me Veramente piace Ditemi ovviamente nei commenti Come vi ho detto all'inizio del video Cosa ne pensate Detto questo Se il video vi è piaciuto Vi invito come al solito A spaccare di like questo video Condividetelo con tutti i vostri amici Per supportarvi Iscrivetevi al canale Se non l'avete già fatto Detto questo Da GX97 è tutto Ci vediamo ad un prossimo video Bella raga